Così come lo è stato prima il direttore e passiamo a parlare un pochettino di più diffusamente della tecnica. Intanto la squadra vedo è abbastanza rimpolpata, ci sono tanti giocatori, come dicevamo qualcuno viene dalle forze dell'ordine e qualcuno invece viene dall'interno del carcere. È stato difficile reperire questi elementi? No, devo dire che venivamo dal torneo Interforse, quindi avevamo già contatto con tutte le forze di polizia, quindi per me è stato facile parlare con i responsabili dei gruppi sportivi, sia della Guardia di Finanza che dei Carabinieri, della Polizia di Stato che purtroppo non hanno potuto partecipare per problemi di rendi al servizio. E poi ho contattato il mister Aldo Poggi che ha dato la sua disponibilità e altri ragazzi che giocavano hanno giocato già a calcio da parecchio in prima, in promozione e in seconda. Per me è stato facile, devo ringraziare all'apporto che ha dato il direttore, il presidente e i collaboratori, i consiglieri a iniziare da Iasimona, Mato e poi tutti quelli che fanno parte di questo progetto. La polizia penitenziaria che ci dà una mano all'ingresso della squadra all'interno, ai detenuti che ci stanno dando veramente soddisfazione per quello che fanno, come si allenano e partecipano a questo progetto. Allora, il direttore sportivo della squadra Antonio Cofrancesco chiediamo a questo punto qual è l'obiettivo di questa neonata società che ricordiamo ha questo curiosissimo nome, si chiama Galeotta. L'obiettivo per tutto è vincere, quando si partecipa si vuol vincere e quindi faremo anche noi, abbiamo questa intenzione. Poi il campo vediamo se ci darà ragione, comunque abbiamo giocato in Coppa e la squadra è abbastanza buona. Poi guardiamo per l'avvenire se possiamo alimentare questa squadra con altri soggetti, sia detenuti che esterni e delle forze armate. Allora, proprio a proposito di questo inizio di stagione, se non andiamo errati il campionato comincia domani che è sabato, voi riposate, però avete già avuto il primo turno di Coppa, sfortunatamente siete usciti ai calci di rigore contro un'altra squadra di terza categoria, anche questa neonata, contro la Poveromo. Il Poveromo è una squadra fortissima, anche loro sono tra le squadre che ambiscono a vincere il campionato, quindi abbiamo giocato la nostra partita, il primo tempo potevamo andare in vantaggio noi a ritorno, poi abbiamo perso i calci di rigore, è una lotteria, quindi chi ha visto la partita si è reso conto che la Galeotta è una squadra che gioca. Benissimo, adesso passiamo dalle teste pensanti, gli uomini dietro la scrivania, a quelli che scendono in campo. I protagonisti del campo partiamo a sentirli da il Nocchiero, Aldo Poggi, Massese-Verace, Montignosino, per la precisione, sempre della provincia di Massa, allenatore di discreta carriera, che si trova a gestire questa novità assoluta, per lo meno per la Toscana, per la provincia di Massa Carrara. Sì, la novità, sono qua soprattutto per quello, per l'entusiasmo che mi ha trasmesso il mio amico Antonio, con Francesco, l'avete sentito prima, il direttore soprattutto, e mi hanno coinvolto in questo progetto che all'inizio sinceramente ero un po' scettico per il fatto che a me piace allenare, perciò avevo delle remore sul fatto dove ci alleniamo, poi hai potuto constatare anche te che qua è un paradiso, si può lavorare, ci si può divertire e ci divertiamo da un mese in maniera bellissima, lavoriamo bene, tranquilli, tutti ci danno la piena disponibilità, io mi sento, questa non è una squadra di terza categoria sinceramente, noi ci alleniamo bene con tanti ragazzi, bravi ragazzi, l'abbiamo dovuto scegliere perché capirà il posto dove siamo, abbiamo dovuto scegliere della gente che l'abbiamo potuta fare entrare, obiettivamente, senza offendere nessuno, e io mi sto divertendo, ci sto mettendo tanto entusiasmo, da un po' di tempo, da un mese a questa parte, quanto loro, se no anche di più. Adesso la nota importante, passiamo proprio a quella strettamente tecnica, la stagione è cominciata diciamo in maniera abbastanza amara, c'è stata una sconfitta però, sebbene è arrivata ai rigori, comunque una sconfitta, quali sono dal punto di vista tecnico le cose che si aspetta l'allenatore da questa stagione nuovissima, stagione per la nuovissima squadra della Galeotta? Tu dici amara, per noi non è stata assolutamente amara perché abbiamo preso questi due impegni, diciamo, l'andata di ritorno contro il povero uomo come un proseguo della nostra preparazione, cioè non avevamo messo amichevole, avevamo messo questi due partiti. Sono andate oltre le nostre più rosa aspettative, a detta di tutti, ci abbiamo avuto tanto pubblico, a detta di tutti avremo strameridato di vincere sul campo, purtroppo abbiamo perso, però ecco, ti ripeto, è stato un lavoro che si è protratto, nel senso che per noi è andato benissimo, abbiamo migliorato dalla prima volta, abbiamo messo a posto alcune cose, la seconda volta strameritavamo di vincere, abbiamo avuto il quinto rigore per vincere, abbiamo avuto un rigore in partita che abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato diverse occasioni, ma purtroppo poi c'era la lotteria di rigore quella, però a noi non ci interessava, ci interessava far bene, abbiamo fatto bene, tutti sono contenti, non penso che sia per piageria, però siamo veramente contenti, io sono contentissimo, siamo più avanti rispetto a quello che pensavo, sta qui è una squadra con un gruppo di ragazzi eccezionali, che se continuiamo così, se non altro ci divertiamo tanto, ma sono convinto che faremo anche bene, perché si allenano troppo bene, sono troppo bravi ragazzi, gente come si deve, gente che viene al campo come si deve, qualcuno si guarda anche in categoria superiore, ma aiuta nel gestire i giovani e si sono integrati con questi ragazzi in maniera ideale, e loro sono persone come si deve, per quanto riguarda noi ci mancherebbe altre, anzi al di là delle più grosse aspettative, non creano nessun tipo di problemi, anzi aiutano, aiutano anche gli altri e gli altri si sono calati così e se andiamo avanti così penso che faremo molto molto bene.